Un nuovo mezzo donato al Calcit, consegnato nel corso di una cerimonia ospitata in piazza Sai Jacopo. Si tratta di una Fiat Panda che verrà utilizzata per il progetto scudo di assistenza a cure domiciliari. La donazione è avvenuta da parte dell'Associazione Provinciale Auto e Motostoriche Città di Arezzo e CNA. In questo caso il mezzo è il quinto che la città ha donato, aziende e singoli privati, grazie al lavoro anche della CNA Social Net che ha organizzato questo raduno provinciale di auto e moto d'epoca. In questo momento mettere in risalto questo servizio che è ben apprezzato dai cittadini, che interviene in un momento delicato per la famiglia, mi sembra anche giusto sottolinearlo e farlo pubblicamente sapere. È un servizio molto delicato, molto vicino alle famiglie che ha bisogno di sostegno e di servizi adeguati e ne ha una testimonianza quest'auto. Quest'auto è il risultato di una rete di volontariato che è sempre molto attiva in questo territorio, quindi è una grande ricchezza. Siamo qui a testimoniare la vicinanza a chi soffre, alle famiglie, con questa iniziativa che è importante questa consegna di quest'auto anche di primo livello e è il risultato appunto di dieci anni di raduni di auto e moto storiche che noi facciamo con grande successo e che hanno questo risvolto di solidarietà che ci inorgoglisce. E quindi oggi è un momento importante la consegna di quest'auto al Calcit che è sempre il nostro partner ormai da dieci anni.